Circa 20.000 prestazioni mensili, 100.000 soci, 220 medici e 12 presidi sono i numeri della Fondazione Pubbliche Assistenze che ha festeggiato a Firenze i suoi 10 anni di attività. Nell'occasione è stato presentato anche un documento programmatico da condividere con la Regione in cui sono stati fissati gli obiettivi per il presente e per il futuro. La Fondazione PAS in questi 10 anni è cresciuta molto, ha tenuto fede però alla sua missione, quella di creare una sanità vicina ai bisogni dei cittadini diffusa sul territorio. Il messaggio che lanciamo per il futuro, per i prossimi anni è quello cui Fondazione PAS, la rete delle pubbliche assistenze e il nostro gruppo vogliono essere un elemento fondamentale della riorganizzazione dei servizi sanitari territoriali partendo dall'idea che le nostre organizzazioni fanno parte della comunità e quindi vogliono essere integrate nel percorso delle case di comunità e della riorganizzazione dei servizi sanitari.